Allora, il giro sarà sicuramente molto impegnativo, ma bellissimo! Amici Pikers, buon divertimento, noi ce l'abbiamo messa tutta per voi! Ragazzi, la giornata è perfetta, è spettacolare, divertitevi, date la vita per arrivare qui, non sul podio, ma al traguardo! La terza è un parto! buongiorno 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 un saluto da lì ciao vai vince lui il numero uno grazie un saluto da noto un saluto da noto Gocca l'Umba tutti ragazzi Cosa ti aspetti oggi? Una bellissima gara, grazie a tutti Buongiorno 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 Ciao Vincendo Vai l'ultima Ciao Buongiorno Ci troviamo qua a Nicolosi nella Pineta Per questa altra edizione dell'Etna Extreme Un saluto Team Bike Noto Team Bike Noto Ciao Ciao Team Bike Noto Ciao Buongiorno Freddo eh Madonna non frega più E' un saluto 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 Saluto a tutti Sì Ancora E' un saluto E' un saluto E' un saluto E' un saluto Grazie a tutti. Grazie a tutti. È una gara che premierà la resistenza e la costanza durante il percorso con diversi saliscendi e di tracciato lungo i tre percorsi della sfida. Soprattutto è la tappa finale di una stagione veramente intensa che premerà diversi podi, compreso quella del Mediterranea Challenge. Quindi è sicuramente un appuntamento atteso e partecipato come sempre. Ok, perfetto, va bene, confermati. Ciao ragazzi, volevo ringraziare intanto gli organizzatori perché comunque come tutti sapete siamo una forzata di un'altra trata e si sono spesi parecchio per comunque organizzare questa trata e dare il meglio. Quindi un applauso penso che io lo subiamo. Che dite? Ringrazio Stefano e i ragazzi. Un saluto. Le parole dell'organizzazione perché ci sono anche delle comunicazioni in servizio. E' un'altra trata, è giusto? Vale, grazie a tutti. Prima di tutto faccio i complimenti all'organizzatore perché Stefano si impegna ogni anno tantissimo. Noi come Comune di Petara ci limitiamo ad autorizzarlo a passare le nostre vie e per noi è un grande onore. Quindi complimenti a Stefano e a tutti quanti i partecipanti, grazie. Buona domenica di sport, bellissima iniziativa e spero che se ne possono fare sempre di più considerato il fatto che tra i castanchi si presta benissimo anche in questi tipi di iniziative. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. 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 , , , a tutti. , , , ,